Grazie, grazie. Vi volevo presentare gli invisibili che noi spesso non vediamo, ma ci sono ed è una presenza costante. Non facciamo finta di non vederli. È importante per me essere qui perché l'incontro era a Modena. Sarei stato un folle ad essere a Carpi, anche se avrei voluto. Stasera voglio parlare di sconclusione, di proloquio, di excursus, di viaggio senza andata né ritorno. Non concepisco perché per tornare si debba partire. Questa è una cosa che mi annoia da morire. Io vorrei tornare in India. È uno dei miei sogni, ma non ci sono mai stato. Come faccio a tornare in India se non ci sono mai stato. Le parole possono portarci ovunque, senza soluzioni di continuità, sul detto del mondo, che non è il Tibet, non è l'Everest, ma il detto del mondo è tutto quello che si ammassa in una vita di parole dette. Per scoprire, per esempio, il rapporto tra matematica e filosofia. Quanto fa parola per parola? Questo voglio sapere. Qual è il risultato di parola per parola? Logos, mi dicono logos, o mitos, atos o portos, aramis o arabis, l'araba felice, vorrei trovare un'araba felice. Mito, mitessa, mitologia, mitologos, la verità non basta se non c'è il favoloso che fa volare, fa volare. Ornitologos, escatologos, cardiologos, ematologos, antropologos, voce del verbo. Non sentite la voce del verbo? In una parola ce ne sono altre. Prendo la parola, la nascondo, rapimento letterario, pagheremo un riscatto per rivederla viva, ma in troppi uccidono le parole. Troppe persone stanno assassinando le parole. Le parole hanno paura. Alcune le rivediamo, altre se ne sono andati per sempre. Ortografia esistenzialista. Alle volte basta un punto interrogativo. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te? Punto interrogativo. È confermato? Me lo dici? Basta un punto interrogativo per sapere. Sei sicuro? Perché ho visto la macchina e lui non l'ho visto. Allora ce l'hai tu? È con te? Quindi Dio esiste. Molti possono perdere la fede, ma amano lo stesso le dita. Quindi non è un problema. Le parole come dissonanza, consonanza, vocalità, suono, un nuovo alfabeto, la delirica, la delirica. Non mi interessa la lirica, mi interessa la delirica, la poetica fino alla pazzia. È molto importante. Ma se le frasi non avessero consonanti? Ae o aia. Ae o aia. Ave Maria. Ae o aia. Dobbiamo sentire un altro suono. Non amo la parola se non va a genio. La parola deve andare a genio. Se non è pensata prima di nascere. Se non è innata. Se non schiude. Deflagra. impazza. Figlia unica del pensiero. La parola scritta. La parola data. Che non è un giorno. La parola dettata. Siamo sotto dettatura. La parola pensata. Inventata. La parola data è dita. Dita. Per lasciare un'impronta. La parola scandita. La parola cancellata. Perché storpiata. Perché si cancella lo storpiato. Qual è questo concetto? La parola corretta, volgare, santa. Il dono della parola. Il dono della parola ce lo fa lei o glielo facciamo noi alla parola? La parola mancata. La parola mantenuta. Anche se non hai soldi la parola la devi mantenere. Per tutta la vita la devi mantenere. Perduta, perdita d'orecchio, vilipesa, pesata, soppesata, pronunciata, appena pronunciata come un mento da mentire. Quindi la parola bugiarda, svilita, prima, ultima, annunciata, sgrammaticata, lasciata in bocca. Quante parole lasciamo in bocca? La parola venduta, rimata, rinata, sbagliata, giusta al momento sbagliato. La parola chiara, nuova e uova. Quindi una sorpresa. Una grande sorpresa. Sorpresa stupefacente. Noi dobbiamo usare lo stupefacente, non farci di stupefacenti. stupefare. La parola del Papa è la parola mia o la parola del Papa? All'enigmistica, preferisco la mistica e l'eufemistica. Non ho paura della morte. Moriremo tutti che ci saranno ancora dei prosciutti. Quindi tranquilli, non abbiate paura. Abbiamo sempre paura del cibo. Noi non ci saranno più, ma il cibo ci sarà. Nei posti sbagliati, ma ci sarà ancora. Penso spesso al suicidio. Molti mi dicono davvero, ma al suicidio degli altri. Penso al suicidio degli altri. Non posso pensare sempre a me. Non ho paura. Siamo gente che porta fuori l'immondizia. Altri che ce l'hanno dentro. C'è differenza tra portarla fuori e averla dentro. Molto spesso parliamo con persone che l'immondizia l'hanno dentro. Vorrei stabilire una distanza. Quando era vivo portavo il mio cane fuori. Adesso lo porto dentro. Con me. In verità ne avevo tre. si chiamavano aiuto, scusi e signore. Ed era veramente un'avventura ai giardini. Aiuto, 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 aiuto. La gente si girava. Scusi, scusi, scusi. Aiuto, scusi. Signore, signore. Tre cani. Signore, aiuto e scusi. E la gente non sapeva e mi chiedeva. Ha bisogno di qualcosa. Aiuto, aiuto, dove sei? Sono qua, signore. Scusi. E la gente si formava a cappannello e il cane se ne andava perché ormai non poteva più arrivare. Non era una bestia. Posso avvicinarmi al suo cane? Non fa niente? Non fa niente. E lo morde. Perché mi ha morso? Non fa niente. Non ha attività. È disoccupato. Non ha niente. Non fa niente tutto il giorno. Vive di rimorsi. Vive di rimorsi. Questo è il suo vero problema. È perché mi ha morso. È un cane da Oscar. Non scrive articoli sull'unità. Sull'unità cinofila. Quindi è un Pulitzer. È un Pulitzer. È una razza rarissima. Con la parola mi sento altrista. Basta artista. Altrista. Altra arte. Arte degli altri. Con gli arti. Per gli altri. Altrimenti. Altrimenti. Ecco la parola crealtà. Io non voglio dimenticare la realtà. Ma filosoficamente voglio crearne un'altra. La crealtà. Che non esclude la prima ma inventa la seconda. E stasera voglio inventare una parola chiave. Una parola passepartout. Una parola che fa così. Congiungivite. Congiungivite. Di solito noi parliamo di congiuntivite. La malattia che colpisce l'occhio lo fa lacrimare. Vedi male. La congiungivite invece unisce tutte le vite. E ti fa vedere di più. Hai la visione. Collega ogni persona. Collega ogni vita. Unisce. Ed è contagiosissima se si comincia a congiungere la vita. Con gli spaesati. Con gli affondamentalisti. Con gli annegazionisti. Con i generalisti. I degeneralisti. Gli schifisti. I mercanti di uomini. Che sono al pari della vergogna dei mercanti di armi. Noi dobbiamo combattere i mercanti di uomini. Ma non ci sarebbero mercanti di uomini se non ci fossero mercanti di armi. Questo è congiungere le vite. Intelligenza artificiale. Il problema è la stupidità reale. Non è l'intelligenza artificiale. Mi sono seduto un attimo. Io credo. Credo. Nell'intelligenza crepuscolare. Si accende appena cala l'oscurità. Quando c'è qualcosa di nero. Quando c'è qualcosa di buio. L'intelligenza crepuscolare. Come fanno certi lutti. S'accende. Mi piacciono le parole. Amo. La parola stanne. Stanne. Nessuno la usa da sola. Ho dedicato questa serata a tutti quelli che sono morti senza aver mai pronunciato la parola solfa e la parola gonade. Ne sono tantissimi nel mondo se ci pensiamo. Soprattutto gli stranieri non pronunceranno mai la parola solfa e gonade. Quindi l'ho dedicata al mondo. E l'altra dedica è la parola stanne. Stanne fuori. Stanne alla larga. Stanne distante. Stanne lontano. Da certi chi? Lontano. È l'albero della distanza. Lontano. I suoi frutti sono le distanze. L'albero dei cocomeri. I cocomeri alla scolana. La parola chiave. Passo e chiudo. Passo e mi rinchiudono. Perché c'è questa strana congiunzione? Passo e mi rinchiudono. Perché mi esprimo ma non mi fanno esprimere. Non mi lasciano dire. Assange. L'Iran. Oggi è l'anniversario di quella donna uccisa dall'Iran. Non ho parole. Lei le aveva ma non gliel'hanno fatta dire. Umanicomi. Li chiamo umanicomi a cielo aperto. Cielo vuol dire nascondo. È importante in un festival come questo. Io lo chiamo il festival dell'arte contemporanea. Della contemporaneità. Collegare tutti i festival nello stesso attimo. È la danza del mentre. La danza del mentre. Mentre sono qua sono collegato ad altri festival. I nostri contemporanei. Chi sono i contemporanei? Chi sta facendo adesso sesso? Chi muore di infarto? Chi nasce? Chi prega? Chi frega? Dio ti frego. Dio ti frego. Molte religioni hanno questa frase. Dio ti frego. Fa che il mio tornaconto non sia solo il mio. Nave Maria. Piena di volontari. Fa che altri ONG arrivino a salvare in mare. Ti prego nave Maria. Dio della politica. Non lasciare che ci faccia certa gente che fa certe leggi. Che permetta connivente e complice questo geniocidio contemporaneo. Lecito permesso. Il problema non sono i falsi invalidi. Sono i falsi validi. Questo è il grande problema. Non è solo la parola falsi validi. La parola disoccupato. Fondamentale. Il lavoro. La mancanza di lavoro mi preoccupa. Ma mi preoccupa molto di più. Chi ha un lavoro e non lo sa fare o lo fa da schifo. Questo è quello che mi colpisce. Non chi non ce l'ha ancora. Posti di lavoro. Per posti di lavoro c'è la parola assumere. Prima cari legislatori e governanti assumetevi le vostre responsabilità. Bisogna assumere le proprie responsabilità. Le proprie responsabilità. Assumere un atteggiamento. Assumere una posa. Una posa. Non quelle in televisione. Dai talcolizzati. Li chiamo i talcolizzati. L'alcolizzato in televisione non ci va. I talcolizzati ci vanno. Venditori di libri. Alla faccia delle immagini che scorrono nelle loro spalle. Che di solito sono girate. Stanno facendo del loro meglio. Molti ci dicono facciamo del nostro meglio. Vai a cercare il meglio di qualcun altro. Il tuo meglio non va. Non va. Ci hai messo tutto te stesso. Chiama qualcuno. Grida aiuto. Aiuto. E via un cane che arriva. Meglio usare il meglio degli altri. Chiamate qualcun altro. Sì te stesso. Sì te stesso. Se sei te stesso. E se vali. Se non sei te stesso. Sì qualcun altro. Sposta. Dice ma devo pensare a me. Non pensate. Pensate con la vostra testa. Questo è il problema. Molti dittatori. Molti politici pensano con la loro testa. Prova a pensare con la nostra per un attimo. Una volta. Ed ecco la parola chiave. Immedesimazione. Ma provi mai una volta a metterti nei panni e nei pesci degli altri. Provi mai? Ce l'hai mai fatta? È importante questo. Prima di tornare in te. Dai un'occhiatina in giro. Dice sono svenuto. Ho perso conoscenza. Dopo la riprendi però. Non è che la perdi del tutto. Dice ho perso conoscenza. Ma se il cretino perde conoscenza. Quando la riprende ne ha di più o di meno di prima. Questo voglio sapere. Perché avrei una sfilza di cretini da far svenire infinita. Parliamo di conoscenza. Parliamo di coscienza. Non solo sempre di scienza. Di incandescenza. Di fluorescenza. Di luminescenza. Dacci oggi il nostro immane quotidiano. Dacci oggi il nostro immane quotidiano. Il mio igienista mentale insieme a uno scuro veggente mi hanno detto una volta nella vita fatti vedere da una finestra. Non da un dottore. Ma da una finestra. Fatti vedere da una finestra. Capirai la differenza tra sparire e trasparire. E verrai guardato guardando contemporaneamente. Fatti guardare e guarda. La parola di Dio. La parola dell'uomo. Prese un braccio. Lo spezzò e disse. Prendetene tutto. Lo diede ai suoi ortopedici. E dice. Intessate tutto. Questo è fatto per voi e per la nuova ed eterna alleanza medico-paziente. Fate così. E questo serve per capire emergency. Per capire medicine sans frontier. Per capire molto della terra. Prese la terra. La unì e disse. Abitatela tutti. Questo è in memoria di chi dimenticate. Presi la terra. La unì e disse. Prendetene tutti. Non dividetela. È fondamentale. È necessario. Perché ogni cosa è anche una forma d'amore numerico. Un amore imperfetto. Un amore perfetto. Il tre. Io non vivo senza tre. Non vivo senza tre. Pare, figlio, ma è spirito santo. Mi piace traslocare di soprassalto. È difficile traslocare di soprassalto. Da un continente all'altro. Da una persona all'altra. Io sono linfomane. Essere linfomane vuole dire continuare ad avere rapporti con tutte le vite possibili. Non ti deve bastare la tua. Qualcuno potrà dire non urlare. Non è un comizio. Non è una manifestazione. Questa è una manifestazione d'affetto. Perché non possiamo avere una manifestazione d'affetto? D'ora in poi proverò a dire le cose molto più piano. Sussurrounding. Sussurrounding vuole dire se serve e se servo. Servo. Sentite questa parola servo. Servo da utilità o servo da schiavo. La parola servire. L'asilo politico. È difficile da richiedere. Ma c'è l'asilo politico. Ed è il Parlamento. Quello è l'asilo politico. Dove litigano, discutono, si danno le spinte, ridono, piangono, si fanno del male. Quello è l'asilo politico. Ma in ogni asilo che si rispetti i genitori la sera vengono a prenderli e li portano a casa. Non li lasciano lì. A casa per insegnarli e per educarli e per continuare la scuola. Sono qui per donare i peccati. Per donare i peccati a tutti. Uno a te, uno a te, uno a te, uno a te. Questa è la congiungivite. Sentite queste parole. Ondate. Ondate di migranti. Ondate di migranti o ondate addossa ai migranti. Parliamo di fiumana, fiumana, di gente o di acqua che straripa. Senti questo come è sempre, come si attacca. Questo coagulare, come urlano queste persone. Famiglia allagata e famiglia allargata. Tempo fa la famiglia allagata era quella, lo dicevo, dentro una barca che poi sprofondava. Adesso la famiglia allagata è anche a Cesena e anche in Romagna. La famiglia allagata è successa anche in Libia adesso. La famiglia allagata è stata in Ucraina anche, dopo lo scoppio di una diga. Qual è la famiglia allagata? Non capite che l'acqua ci sta raccontando qualcosa? Il tema dell'acqua. L'acqua ci sta dicendo ma mi capite o no? Quando c'è una madre con un bambino a Cesena che dà il proprio bambino a un gommone e questo gommone deve salvare il bambino. La madre non si chiede se ha un gommone dei pompieri, dei carabinieri o dell'esercito. Glielo dà perché lo salvi. Questo non vi ricorda niente? Non ci ricorda niente? Non congiunge nessuna vita? Io penso che quella madre quando guarderà in televisione o sui giornali una barca che va giù si renda conto di cosa voglia dire. Questa è la congiungivite. Lucrare, lucraina, sentite le parole lucrare, lucraina, sono lacrime, lacrimea, Kiev, chi è vivo. Sentite che le parole dicono ma ci state ad ascoltare, suonate con noi questa delirica. Dice ma siamo esauriti, è l'esauritmo, battiamo l'esauritmo delle parole su questo rigo che ci sta dicendo, l'invasione. Siamo stati invasi dall'acqua, siamo in fase dalle bombe, le bombe d'acqua e le bombe militari. Sentite come queste parole dicono collegateci, unitevi, uniteci, non c'è niente da fare e chiedono tregua, chiedono la tregua dal cielo, chiedono la tregua dal cielo e chiedono la tregua dal cielo dalla pioggia e dalla pioggia di aerei. Il cielo, questo cielo che arriva tutto da lì, arriva tutto da lì. Il rubicone, hanno parlato del rubicone, ucraini e russi, simboleggiando la Romagna e intanto la Romagna era sott'acqua. Ma non vi accorgete che tutto questo è un collegamento costante. Le parole non vivono se non hanno sensi, se non danno senso e se non ci fanno muovere. È fondamentale, è un richiamo. La via della seta, tutti parlano via della seta. Andiamo a vedere la via della sete, che è quella che parte dalla Libia, va nel deserto e li fa morire tutti. Quella è la via della sete. Chi è che è interessato alla via della sete? Nessuno perché non riesce a produrre. Non ci sono scambi. I fuorviati, gli inviati, il giornalista della spesa che fa gli elenchi delle disgrazie, la lettura dell'acqua, la lettura del gas, la lettura della luce, la lettura del fuoco, della terra, del cielo, della mano, delle labbra, del pensiero. Proviamo fino allo stremo, altra parola che adoro, l'inventore. Pensate che l'inventore delle tasche era un monco. Pensate, non è altruismo questo. È una delle forme altruistiche più importanti. Pensate che l'altissimo ha creato anche dei nani. Non vi dice niente questo? Compreresti mai delle mutande da chi non le porta? Questa è una domanda che non c'entra niente, ma l'ho voluta fare. L'ho voluta fare. Tutto c'entra. Terrorismo, errorismo, orrorismo. Noi non reagiamo più. Non reagiamo più. Ma io mi chiedo, quali sono le parole perché non reagiamo più? Pazienza? Sopportazione? Indifferenza? Conflitto di disinteresse? Paura? Accidia? Per quale motivo non scendiamo più in piazza con migliaia e migliaia e migliaia di morti? Per quale motivo? Per quale motivo? Ci hanno gasato? Ci hanno sedato? Seduti? Ci hanno seduti? Ah, sedessimo. 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 Staremo più comodi e saremo generosi. Sedessimo. Pensate questa parola. Sedessimo. È fondamentale. Una volta sparavano per cambiare la vita. terrorismo. Adesso sperano. Noi speriamo. Non facciamo altro che sperare. C'è scritto in questo libro di Joyce che ho qui con me, c'è scritto, c'è scritto cosa pensano i becchini durante la sepoltura. È scritto nel libro di Joyce, l'ho scritto io. Adesso mi sto prendendo la briga di scrivere nei libri importanti delle cose mie e dire come è scritto nel libro di Joyce, ma non ho detto da lui. L'ho scritto io. Questa è la grande novità della letteratura. Questa è la letteratura. Dobbiamo cambiare l'architettura, la parola architettura. Dobbiamo cambiare l'ambiente, l'ambiente, l'architettura dell'ambiente. I tavoli a chiocciola, gli armadi a sdraio, i pavimenti a muro, il letto quattro stagioni, la camera in bagno, il tetto sulla piscina, il triangolo cottura, i toiletti. I toiletti sono dei bagni dove tu fai le tue cose da sdraiato. Si chiamano toiletti. La toilette è un'altra cosa. Ma i toiletti tu ti sdrai e fai quello che vuoi. E questo congiunge le vite anche delle persone che noi quando andiamo in bagno non pensiamo mai. Cioè le persone che sono sdraiate in un letto non si possono muovere da lì. Allora la parola toiletti a me ha fatto pensare immediatamente con giungivite, ecco questa parola, ad arrivare lì dentro, ad arrivare lì dentro, a pensare a quello, a stare in allerta. Non aspettare che ci vada io su quel letto. Io con i miei scritti, il mio scritto andare su quel letto. Non aspettare che ci vada mio figlio, mio padre. Ci sto andando io con la parola toiletti. Donne, donne, è arrivato l'Agustino. Donne è arrivato l'Agustino. È arrivato l'assassino. L'avaro di moglier, crepi la patrizia e tutte le altre. Fine della possessualità. Sentite la parola possessualità. Abbiamo attaccato alla parola sessualità la parola possesso. Possessualità. Come fare per togliere questa possessualità? Come riuscire? Inoridisco. Di solito c'è Inoridisco. Inoridisco è un gruppo musicale. Si chiamano Inoridisco. È un complesso che suona sempre. Che si spaventa a morte degli altri. Suonano tutti. Tutti i giorni in concerto. Un concerto per guerra fondai. Armigeri. Che le fanno e le vendono. Le proibiscono e poi le rivendono. Ai militari. In generale. In generale. Questo era stato un sostantivo fino a poco tempo fa. In generale. Adesso la parola generale è cambiata completamente. Io voglio più gli annacci e meno vannacci. Questo è il mio desiderio. È un desiderio musicale. Basta Marines. Sottomarines. Ross. Marine. Maron. Pummaron. Due Maron. Basta. Basta. Fine. Buona. Transizione logica. Soldi delle armi transitano nella scuola, nella sanità e nella povertà. Facile dirlo. Si può fare. Si può fare. Manca la parola decido. Manca la parola sono immedesimato. Manca la parola riesco. Manca la parola io ci sono. Manca la parola ci rimetto. Ci deve rimettere. Per rimetterci in cammino. La parola rimetterci ha molti significati. Perdere. Non avere vantaggio ma rimetterci l'anima. Rimetterci l'anima. Rimetterci in cammino. Rimetterci nel passo. Non è retorica. È congiungivite. Gli stupri. Parola. In Italia. Quotidiani. Sconvolti. Ci lamentiamo. Scendiamo nelle piastre. Accusiamo padri, madri, mariti. Gridiamo allo scandalo. Patricello. Caivano. L'abbiamo visto. Pedofilia. Pensate. Un prete. Un grande prete che io ho conosciuto tantissimo tempo fa quando abbiamo fatto un incontro sulla terra dei fuochi. Terra dei fuochi. Qual è? Se non è la guerra. Se non è dove c'è la guerra. La terra dei fuochi. Qual è? Beh ce n'è una in Italia. Dove muoiono milioni di persone da anni. Molte di più che in un'alluvione. semplicemente perché nessuno va a vedere di quanto ci sia mala di leucemie e di quanto quella terra stia uccidendo le persone. Ma arriveremo anche lì. Intanto siamo arrivati a Caivano dove un prete ha denunciato pedofilia. Altra parola chiave. Camorra. Uccisioni. Torture. Un prete ha denunciato 10-20 casi di pedofilia. Un prete ha denunciato 20-30 casi di pedofilia. Un prete che fa parte della chiesa. Nella quale chiesa la pedofilia parla di milioni di vittime. Congiungiamole un attimo queste vite. Andiamo a vedere cosa non vogliamo vedere. Andiamo a congiungere. Caivano è quello. Reale. C'è. Ma io sono altrove. Io sono altrove. La camorra. Ma io non sono lì. Io non sono lì. Però fammi capire che differenza c'è tra la pedofilia lì e la pedofilia là. Altrove. Gli aguzzini sono là per mano di altri. Noi non uccidiamo. Assolutamente. Noi ci mettiamo d'accordo. Affari. Contratti. La von der Leyen è volata a Tunisi per dire voi prendete i nostri soldi che potremmo dare alla scuola, alla sanità o a creare degli spazi per il futuro lavoro dei migranti. I migranti ve li tenete voi. Li chiudete dentro un luogo molto peggio di Caivano dove sappiamo che vengono violate, stuprate, torturate. Vi diamo dei soldi ma non ce li fate vedere. Questo è il rapporto tra vicino, lontano, congiungivite. L'Europa ha deciso di fare questo. Pensateci voi. Noi non li stupriamo. Sarebbe come dire davanti a una discoteca ci mettiamo tutti i ragazzi arrapati. Andate dentro. Fate quello che volete ma non fateci vedere che cosa succede dentro. Allora la mia domanda è genitore, padre, figlio, politico. Ma non ti sei accorto? Che cosa ti devo fare? Per farti capire che è la stessa identica cosa. Che cosa devo pensare? E infatti è una sostituzione etnica nel vero senso, inteso nel senso vero. Cioè noi siamo i migliori, loro sono i peggiori, quindi possono subire tutte le violenze possibili e inimmaginabili. Facciamo, facciamo, facciamo. Continuiamo a fare. Invece dobbiamo venire. Dobbiamo venire. E non è un concetto sessuale. Dobbiamo venire salvati, ascoltati, amati, capiti, accolti. Sentite queste parole. Venire accolto. Dovremmo imparare dei falegnami che giocano a poker, gli bastano due o tre assi per essere felici. E costruire qualcosa anche se vincere niente. È simbolico. Le idee ci vengono in testa. Dobbiamo correre per non perderle. Dobbiamo correre, andare veloci, per raggiungere l'orgasmo. Dobbiamo raggiungere l'orgasmo. Siamo troppo indietro. Siamo fatti, completamente fatti. Sì, fatti di carne, di ossa, di anima. Fatti per pensare, guarire, guarirci, guaire, mutare. Siamo fatti per sconfinare. Cambiare dimensione, modo. È difficile. Cambiare aspetto. Un ministro e il suo aspetto. Aspetto che muoiano. Poi vedremo. Aspetto che muoiono. Poi vedremo. Ma perché la parcellizzazione, si chiama parcellizzazione, questa parola fondamentale, parcellizza i comandi, parcellizza i doveri, parcellizza i compiti e non sarai mai colpevole. Tu decidi di far fare a una nave un viaggio solo per salvare soltanto una barca. Le altre non le devono salvare. Non si può per legge. Ecco, vi chiedevo, ma dove siamo? Noi dove siamo in tutto questo? Non si può. Quindi quelli possono andare giù. Vadano giù. Vadano giù come dovevano andare giù quelli di Cesena, ma non li hanno fatti andare giù nessuno. Il più possibile li hanno salvati, ma quelli possono andare giù. Quando le hai presa, quell'unica nave che li ha presi, non devi lasciarli lì. Devi farti altri cinque giorni, le parole cinque, le parole giorni, cinque giorni per andare più lontano possibile. Quindi le persone che hanno visto quelle morti, hanno sofferto, si rifanno della nave, non hanno medicinali, non hanno cibo e devono andare lontano. Differenza tra regole e regolamento e regolamento di conti. Quindi si chiama vendetta. La vendetta è diversa dalle regole. Molto diversa. Allora chiedo, noi non siamo colpevoli. Allora, 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 perché la gente dice allora, 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 a Bologna vogliono mettere i 30 all'ora. I 30 all'ora. Io ho deciso così. Andrò a 200 e in macchina farò. Allora, 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 30 volte lo dirò. Non so se basta. Non lo so. La madre dei cretini è sempre incinta. Ma in questo momento dice, oh, io abortirei, sinceramente. Non ce la posso fare più. Però la cretineria non ci fa paura. Il cretino non ci fa paura. Ma perché non ci fa più paura? Non ci preoccupa. A me non preoccupa la caduta degli dèi. A me preoccupa il mediocre che sta sempre in piedi. Quello è il mio problema. Quello è il mio problema. Voglio festeggiare dei centenari, ma anche degli orari. Oggi eravamo in manifestazione a Bologna per le iraniane. Non solo l'anniversario, ma l'orario. Cioè ogni ora ne muore qualcuno. Voglio festeggiare il centenario di Pirro Cuniberti, grande artista, di Roberto Roversi, grande poeta. Italo Calvino, scrittore. Perché voglio, vorrei bere sempre solo Calvino. Calvino bianco, Calvino rosso, ma importante che sia Italo. Voglio bere solo Italo Calvino. Nient'altro. La differenza tra liquore e letteratura. Tra ubriacarsi di pensiero e perdere il controllo. Su larga scala. Su larga scala. Che dobbiamo salire. Scala sociale. Le scale non sanno di niente se non le saliamo. Ricordiamoci. Le scale non sanno di niente se non le saliamo. È fondamentale. La zecca è ricca. La pulce è povera. Perché? 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 Riserve aurifere, riserve di grano, grana, povertà, senza riserve, fine vita, vitalizi, valle dello spreco, patria, patriarcato, fassino o fassino. È un albero che riceve frutti. Il saggio che capisce che i frutti sono troppi. C'è differenza. Il bene come scopo, che è diverso da come scopo bene. È diverso. È diverso. Ragazzi, è diverso. È importante. Raggiungere la sproporzione mundi. C'è una sproporzione mundi sulla divisione della ricchezza mondiale. È come se in una mano ci fossero nove dita e nell'altra ce ne fosse una. Ma è difficile fare vedere questo esempio. È molto difficile. Dice modena i termini, modena. Mi piace stasera dire modena i termini, modena i toni, modena le parole. Vorrei che diventasse un modo di dire. Modena le parole. Io non le voglio moderare. Eppure sono fuori sulla parola. Sentite quando dicono è fuori sulla parola. La parola del Signore, la parola del povero. Dobbiamo sempre ascoltare la parola del Signore. Dovremmo ascoltare anche la parola del povero, non sempre del Signore. Prendere paura è un furto? Questo è quello che mi domando. È un furto prendere paura? Anche i numeri sono parole. Le statistiche. La scienza filosofica, letteraria, supera la scienza delle statistiche. La scienza imprecisa con le sue variabili. Faccio un esempio. Mi spiego peggio. Quante volte abbiamo suonato un campanello della vita? Indefinibile, incalcolabile. Ma col naso, ecco, col naso è molto, molto più ridotto il numero. Vedete? Basta aggiungere qualcosa. Si riduce di meno. Quante volte abbiamo stretto la mano altrui? Infinite, ma con una morsa? Mai. Quindi basta cambiare la frase dopo. Quante lacrime abbiamo versato? Tantissime. In banca? Pochissime. Pochissime. Perché le lacrime non fruttano. Messo le dita nel naso? Migliardi di volte. Ma di un altro? Mai. E qui la rivoluzione delle parole. Metti le dita nel naso di un altro. Mentre il tuo cane lo chiami, aiuto. E chiami scusi. Orinato in piscina? Sempre. Ma dal trampolino? Mai. Queste sono le cose che dobbiamo cambiare. Pranzato con un uomo? Sì. Ma con un cannibale? Mai. Pranzare con un uomo è difficile. Sono immagini che urtano la nostra sensibilità. Smettiamo di guardarle perché non urtano più niente. Quello che mi preoccupa è che queste immagini non urtano più niente della nostra sensibilità. Perché non le abitiamo. Non ce le mettiamo addosso. Essere investiti non vuol dire essere solo messi sotto o investiti di un ruolo. Essere investiti vuol dire dentro e vestiti di qualcun altro. Abito. Ma io abito lontano. Lontano da lì. Abito in un'altra nazione. Abito dove? Abito dove non c'è la guerra. Noi abitiamo dove non c'è la guerra. Siamo sicuri che noi abitiamo dove non c'è la guerra? C'è una sartoria universale dove si creano modelli di vita che hanno tutte le nostre misure. Invece di stare lì, nella stanza dei bottoni, voi, i grandi della Terra, G7, G8, G6, G5, G4, G3, G2, G1, fino al punto G. O il super G, per chi scia. Arriviamo fino lì. Invece di stare nella sala dei bottoni, ricordatevi che non c'è bisogno di cercare nessun pulsante da spingere per decidere le sorti del mondo. L'unico pulsante è il cuore. Quello è l'unico pulsante. Non ce ne sono altri. Dice questa nostra società, SRL, società a responsabilità limitatissima, SPA, società per azioni pessime, SNC, società non curante. L'uomo è fiera della donna, l'uomo è fiera della donna. Qualcuno dice ma è maschile, no è fiera, è fiera vuol dire bestia. La parola fiera, fierezza, c'ha anche la parola bestia. Il legislatore è fiera del carcerato bambino in carcere, è fiera. Le ragazze di Torino soffrono, S apostrofo offrono, si sono suicidate per raccontare che non possono stare lì dentro in quel modo. È un richiamo dell'attenzione. E che uccello fa quel richiamo se non lo può fare l'uomo, se non lo può fare l'artista, se non lo può fare il cantante? I funerali di Stato sono tantissimi. Ma quante volte è morto lo Stato? E al cimitero ci va il disperato. Quante volte è morto lo Stato? È una domanda che mi faccio seguire. Aumentare le pene per i minorelli. In più, riempiamoli di più. Le pene, il diritto alle pene, le pene, che hanno anche la parola pene. Ma vi accorgete col congiungivite, come filosoficamente tutto questo collegato, a colpa del tuo pene, aumenterò le pene. E tu hai violato qualcuno, io violerò te. E so che lo farò, non ti rieducherò. Perché non ho tempo, non ho possibilità. E perché c'è il grande sport. Buttare la chiave, il lancio della chiave che entrerà nell'Olimpiadi prestissimo in Italia. Buttare la chiave del carcerato. Molto diversa da un'altra specialità. Il lancio del martello. Il lancio del martello sembra facile, ma è composto di tre azioni. Mentre lanci il martello devi lanciare anche il chiodo. Prenderci e alla fine lancio del quadro. E se lo attacchi, hai vinto. Allora, questo richiedono le parole. Una visione completamente diversa. Una visione diversi, diversi. Essere diversi. Prima ho parlato di roversi. Sono roversi, sono versi. È una poetica. Ma cosa c'entra la poesia con la politica? L'esempio lo vediamo tutti i giorni. Niente. Non c'entra niente. Assolutamente niente, infatti. È difficile collegare parole in libertà. Uscire sulla parola, con la parola. Cina, Oman, America, Russia. Io mi interesso di arte da un po' di tempo. E ho costruito un tavolo grande come questo. Ho costruito un tavolo grande come questo. E sto aspettando... Anzi, sono già arrivate... Sono arrivate le gambe dal Kurdistan. Ho scritto anche a delle persone. Ho detto, sto aspettando le gambe dal Kurdistan. E semplicemente perché? Perché io penso che si debba, si possa, si riesca a fare un tavolo delle trattative. Forse lo si farà. Per ora non si riesce ancora a farlo. Ci ha provato Zuppi. Ci provano tutti. Ma il tavolo delle trattative... Nessuno si siede. Ma il tavolo delle trattative sta su. Ecco l'opera che farò. Grazie alle gambe artificiali che mi sono... Arti artificiali che mi sono arrivati dal Kurdistan. Di tutte le persone che hanno perso degli arti per chiedere che la guerra finisse. Quel tavolo delle trattative deve stare sopra le gambe di queste persone. Perché è lì che poggia. È lì che poggia. Dice, ma il ragionamento non sta in piedi. Sapete chi non sta in piedi? Chi cammina su una bomba e scoppia. Dice, ma guarda che non ha nulla a che vedere questo con la filosofia. Non ha nulla a che vedere quello che ha perso la vista. Perché giocava con un giocattolo per bambini. Quello non ha nulla a che vedere. Allora è questo che io mi domando. Cosa possiamo fare per unire questa parola? Per togliere i rifiuti, civiltà ecologica, smaltimento logico. I rifiuti che sono no diritti, no riforme, no verità, no bene. I garanti hanno perso le gare. Pur continuando a legare. Sentite, legare, legare. Legare vuol dire fare, legare, vincere qualcosa. Ma anche costringere. Mi piacerebbe indire lo sciopero della fame nel mondo. Per fare capire. È una parola passepartout. Alle volte mi chiedono se vorrei ricoprire una carica dello Stato. Me l'hanno chiesto molto. Mi hanno chiesto se vorrei ricoprire una carica pubblica. Io ho detto di sì. Poi quando gli ho detto di cosa la vorrei ricoprire? Mi hanno detto, hai sbagliato parola. Ma proviamo a ricoprire queste cariche di... Ma una volta. Mi piacerebbe ricoprire una carica dello Stato di qualcosa perché si rendono conto. È difficile. Carica. Sentite, carica dello Stato. Caricare. Energia, luce, frequenza, carica. Non c'è. Manca. Manca. E noi a studiare la storia. I maia. I malatesti. I malavogli. I malerba. I malasanità. Tutta gente che non sta bene. Tutti. Il rione sanità. I malandati. La mafia. Sodoma e Camorra. I bolge. I casinisti. I tudor. Il Gran Ducato di Toscana. La Gran Ducati di Bologna. I Capettingi. I Capuleti. I Montecchi. Vostradamo. Sardegogol. Matisse. Minette. Bizù. Edoardo II. A nessuno. Teresa Davile. Seneca. Il Vasari. Varen. Messalina. Galileo. No. Galilei. 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 L'educazione davanti a tutti. Chi è che disse? Eppur si muore. Credo Galilei. O Copernico. Non lo so. O un altro liceo. Non me lo ricordo. La filosofia ci parla di questi illustri personaggi. Young. Freud. Che pensavano male della cacciagione umana. Non pernice. Non pernice. Pernice. La pensava molto diversamente da Freud e da Young. Molto diversamente. Sulla cacciagione umana. O Schopenhauer. Sindacalista. Fin dai primi tempi. Il lavoro mobilita l'uomo. Affama la donna e non considera leonuco. La diversità di genere. Non vogliamo famiglia arcobaleno. Preferiamo famiglie tempesta temporale. Non ho mai capito perché. Non ho mai capito perché. La parola arcobaleno. Arte. Filosofia. Musica. Scienza. Antropologia. Nino Rota e la moglie sacra. Sacra Rota. La musica. La chiesa. Il matrimonio. La sacra corona unita. Corona. E altri ospiti dell'obbligo. Paolo Fresu. La trombe d'Eustacchio. Che cos'è? Piero della Francesca. Tom e Jerry Lewis. Chi sono? Le sorelle Fendi. Le sorelle Corbusier. Le Corbusier. Le Corbusier. Ho sempre pensato fossero due sorelle. Le Corbusier. Anche lì c'è la moda. Telemaco. Telecom. Anchise. Pericle. Pericolo vuol dire pericolo. Attenti all'uomo. L'uomo non è in pericolo. L'uomo è il pericolo. È lui il pericolo. Se si toglie lui abbiamo risolto tutto. La parola pericolo. È importante. Ma chi sono pericolo? Simboleggiano qualcosa. Chi è la regina Elisabetta? Per Diana. Chi è? Chi è? Perché dobbiamo fargli un funerale così? Ma chi è? È la regina Elisabetta. Luca da Montefeltro. Le avventure di Pinoccio. E i predatori dell'H perduta. Ma chi siamo? Chi siamo? Mi piace fondere e confondere. È il mio lavoro. Il mio lavoro è quello. Fusione. Confusione. Non nucleare. Il nocciolo della questione. Non quell'altro. Che dire a chi studiava l'atomica? Che dire a chi studiava l'atomica? Fermi! 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 Pensate che quello che ha inventato o aiutato ad inventare l'atomica è stata anche fermi. La parola fermi. Noi non l'abbiamo sentita. Non l'abbiamo captato. Crediamo che le parole servano così. Siano lì. A me piace raccontare senza sapere. Dire senza conoscere. Privo di conoscenza. Io non so tradurre Platone, nemmeno Razio. Solo Clarabella. Io so tradurre Clarabella. Non credo nelle morachie, negli emirati, negli staterelli, nei confini. Figli spinati, muri, blocchi navali, intestinali. Astroenterologia. L'astroenterologia. Noi siamo fatti di stelle anche nell'intestino. L'intestino. L'indestino. Abbiamo scritto qua anche il nostro futuro. Le coliche apostoliche. Avere una colica apostolica. Gesù e i dodici apostrofi. Una nuova ortografia. E voglio anche delle coliche eoliche. Distoliche. Siamo tutti un apparato. Apparato urinario cervicale. Apparato digerente. Apparato genitale. Siluro genitale. Duodenale. Apparato dirigente. Apparato fecale. Cerebro-mentali. Celebrati. Decelebrati. Lo stigma. Lo stigmatismo. Non vedere i diversi. Non vedere gli invisibili. Noi non li vediamo. Non li vogliamo vedere. La parola pazzo. Tornare nella pazzia. Perché Giovanna? Si dice Giovanna al maschile. Non è Giovanno, ma Giovanni. Perché? Perché c'è solo il plurale di Giovanni? Perché il femminile di Marco è marca? Perché? Anna non è anno. Perché? I nomi delle parole fanno musica. la musicalità. Sentite Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, Giuseppe e Maria. Sentite la musicalità. Proviamo a vedere cambiando. Gesù, Ivano e Deborah. Non ti torna. Guarda, ragazzo, guarda. Guarda il presepe. C'è Gesù, Ivano e Deborah. Non prende. Gesualdo. Gesualdo. Il nome di Gesù è Aldo. Gesualdo. Piera e Roberto. Gesualdo, Piera e Roberto. Gesù. Giuseppe e Maria. Originariamente il cognome di Giuseppe era De Maria. Quello che l'hanno detto veloce, Gesù, Giuseppe e Maria. Dopo è diventato Gesù, Giuseppe e Maria. Quale Maria? Quale Giuseppe? Giuseppe Massini? Giuseppe Garibaldi e Anita. Gesù. Giuseppe e Anita. Non torna. Non torna. Ma la storia torna. Anita Egber. La dolce vita. Il buio e l'asinello. I vitelloni. Fellini. La masina. Masaniello. Maranello. Enzo Ferrari. Altre leggende morenti. San Francesco d'Assise. Fino all'ultimo grado del processo delle cose. Sant'Agostino di Novara. La geografia delle storie. L'economia di chi non si risparmia ma si spende. Ci chiedono di risparmiare. Non possiamo risparmiarci. Sentite nelle parole risparmiare. Che questa dilattazione. Una continua dilattazione. Non ti risparmiare. Assolutamente. L'economia di chi non si risparmia e si spende. I Gino Strade. I Donciotti. La Diciotti. Amerigo Vespucci. Magellano. Misero me. Molti dicono misero me. In galera. Misero me. Ma ci doveva andare un altro. Ma misero me. Perché? Dentro la parola misero c'è un verbo. Misero me. In quella casa. Misero me. In quel luogo. Misero colui che stravede per i ciechi. Ma non racconta nulla di quello che vede. Questa è la miseria. Ladro. Chissà. Il fatto suo. e svaliggio un aeroporto non una casa. Il ladro che vuole svaliggiare qualcosa è l'aeroporto il posto più grande per le valigie. Non ce ne sono altri. Dove vai in un'orificeria? Ce ne sarà una se c'è. Un vero mago è quello che senza gambe fa apparire un conillo senza orecchie davanti al pubblico entusiasta che applaude senza mani. Questa è la masia. Ci vuole magia. Le parole richiedono magia. Mentre Firenze per Etola, Milano malpensa. Sentite queste parole. Mentre Firenze per Etola, Milano malpensa. Sentite, noi pensiamo sempre alla geografia. Firenze per Etola. No, è un verbo. Firenze per Etola. Sentite, accompagnate. Ugo e Uganda. Qual è un nome? Qual è un paese? I nomi, i vermi. La formula Ugo. Il mio sogno è la formula Ugo. Tornare all'origine. Non voglio più squadre. Non voglio più miliardi. Non voglio più gare con persone che vincono perché ai box passano davanti agli altri. si chiama Formula Ugo. Stesse macchine, ma corrono il mondiale. Solo quelle che si chiamano Ugo. Solo. Chiunque siano. Qualsiasi cosa sappiano fare si chiama Formula Ugo. E questo è il loro sport. Solo per loro. Sì, incidenti. Sì, problemi. Ma vuoi mettere il divertimento? Vuoi mettere l'originalità? Prendete le persone che si chiamano Ugo, portatele in un autodromo e fargli fare dei giri di randello? Vuoi mettere la novità? Ugo è una parola che può portare un numero. Lì l'originalità. Stupefare. Questo è il lavoro. L'indimostrabiliante. Ecco la parola che stasera amo di più. Indimostrabiliante. Non lo dimostri, ma è strabiliante. Lo sciamanumanesimo, l'umanesimo sciamanico, profondamentale. Cioè fondamentale e profondo. Ecco perché ho scritto nel libro di Joyce, ho scritto sempre io. Andate a casa anche voi. Lo potete fare. Prendete Dante, come ha scritto Dante nella Divina Commedia, come c'è scritto nella Divina Commedia, perché l'ho scritto io e qualcuno lo neghi. E' scritto, quindi come è scritto nella Divina Commedia, a volte la vita si insedia, si insedia a rotelle. Pensiamoci, pensiamoci. Le nostre affinità elettive. L'arte di aprire la porta. Un'altra opera che voglio fare è aprire la porta, ma non così o così. aprirla, tagliarla proprio nel bordino, aprirla, coprire la distanza di 3.000 metri, mettere in una galleria d'arte 3.000 metri. Quei metri che servono per misurare 3.000 metri, sono arrivato su a 3.000 metri. E cammini solo sopra questa montagna di metri. Le altalene da muro, un'opera che farò. L'altalene attaccata al muro. Certo puoi spingere, ma la schienata che dà al bambino, perché dà quella schienata? È il simbolo reale che i bambini non possono più giocare. È il vietato giocare. C'è lo scivolo, ma provano dolore perché sono bombardati, perché sono soli. Lo scivolo contro il muro. Puoi scivolare, ma sbattiti, insacchi. Insaccato. Allora capite che l'arte deve anche trovare questo mezzo. Quando morirono le 600 persone a largo della Grecia, io non sapevo più cosa fare, non sapevo più come manifestare, non sapevo più cosa scrivere. 600 persone che sono state portate in un punto del mare che non era lì nessuno. Così la Grecia non dicevano i romiei. Così Malta non dicevano i miei. Così gli altri non dicevano i miei. Gli hanno messi in un punto che era di nessuno. Gli hanno portati lì, per portarli lì. C'erano le navi, c'erano le persone. È come uno che cade in moto per la strada e dentro c'è la polizia, c'è l'ambulanza, ci sono i parenti, c'è tutto. Però lo trasporti non dentro l'ambulanza. Lo lasci legato fuori e la tiri. L'hanno tirata questa barca. Con 600 persone si è piegata ed è andata giù. Allora io mi domando veramente come faccio a non essere colpevole umanamente col concetto della congiungivite. Allora cosa ho fatto? Ho chiesto alla mia città, Bologna, di poter suonare 600 colpi, anzi 600 colpe di campana a morto. 600. Sono andato dal prefetto perché bisogna avere un permesso per suonare 600 volte una campana. bisogna avere nessun permesso per fare uccidere 600 persone. Però mi ha detto, ricordati che per suonare queste campane 100 è la morte del Papa, 101 è la morte del Presidente della Repubblica. Le campane noi le usiamo a morto solo per questo. Questi sono anche stranieri. Qual è il motivo per cui dovrei darti questa possibilità? Dico, lei non pensa che tra quei 600, tra cui moltissimi bambini, non potesse esserci un prete straniero, asiatico, in futuro, che diventa Papa? Lui ci ha pensato e ha detto, è possibile, fallo. E allora io ho fatto suonare in piazza, 600 volte, altre città hanno aderito, Modena no, me ne dispiace, ma non mancheranno l'occasione, 600 volte, sentire il silenzio, senza proclami, senza sindacalisti, senza denuncia, senza cartelloni, 600 gocce, una alla volta, 600 per un'ora. Ecco, allora io credo che sia possibile, credo che la musica, l'arte, la campana, il colpo, le colpe, il suono, il pensare, il sentirli addosso sia importante. E ne farò altre di queste cose, ne farò un fracco, ma non ho mai capito l'unità di misura, la parola fracco, quant'è un fracco? È più o meno di un sacco, perché uno dice un fracco, un sacco, una barca di soldi, una barca grande o una barca piccola? Guarda, è una marea, bassa, una miriade, abbiamo le misure di sta miriade o no? Sono preoccupato per le misure, uno sbrosso, ma lo sbrosso è più del fracco e meno del sacco? Un sacco è una sporta, è più del brosso, del rozzo? Non ho mai capito. Una montagna, quando dico una montagna di merda, ma una montagna tanta, quanta, quant'è alta sta montagna? feci per voltarmi, quando si dice feci per voltarmi, perché ti fanno proprio la montagna e tu senti l'odore e ti giri, si chiamano feci per voltarmi, proprio lì, sei volte di più, poco meno, poco più, una manica di matti, quant'è una manica di matti? Manica lunga, manica corta, arrotolata, tagliata, grande come una casa, la casa di chi? Rapporto parole, pazienza, vicino, lontano, scusa, qual è la farmacia più vicina? La mia risposta è vicina a cosa? Perché cambia molto. Vicino a un ospedale, a una conchiglia, un armadillo o un giavellotto? Mi devi specificare. Non mi basta vicino. Vicino a un giavellotto, vicino a un uccello che canta, sfattiamolo questo concetto. Gli uccelli non cantano, nessun uccello ha mai cantato, basta dire che gli uccelli cantano. Non ho mai visto uccelli dire quel mazzolino di fiori. Nessun uccello canta, fischiano. La vogliamo inquadrare questa realtà? Una volta? Una. E basta mettere le pecore nell'ovile, nell'ovile ci vanno le galline, solo le galline. È importante per me chiudere questo, è fondamentale, chiudiamolo per sempre. E se il pappagallo non parla, l'hai pagato caro, e scrive, ringrazia che hai un pappagallo che scrive, accontentati, che è la sua forza. E quella è la sua forza. Dice, ma è un tot, un tot, quant'è un tot? Ti voglio bene, un tot, 48, 78, 88, quanto? Poco meno, poco di più, meno di 100, meno di 80, a meno che, quanto fa? A meno che, quanto a meno che? Come una sporta, un sacco, un borsone, grande così, e poi non mi fai nessuna misura, è grande così, o mi dai la misura, oppure non capisci, è grande così, così come? Dammi una misura, io chiamo la dismisura, le parole della cronaca, hanno ucciso un uomo, saranno state le due, non mi interessa l'orario, voglio sapere chi è stato, saranno state le tre, saranno state le quattro, ma sappiamo chi sono queste tre, queste quattro? Quante volte si sente dire, hanno ucciso un bambino, saranno state le sei, ma chi è tutta sta gente che va in giro in gruppo? Saranno state le due, saranno state le sei, saranno state le quattordici, addirittura le ventiquattro, voglio sapere, voglio scoprire chi sono, è importante, per questa che realtà, è importante, soddisfatto, soddistrutto, sorrovinato, la parola soddisfatto, dentro ha romanamente il concetto soddistrutto, quindi non c'è solo soddisfazione, c'è distruzione, dedico anche all'inventore delle curve questa serata, pensate a un seno quadrato, a un sedere cubico, ah se l'angolo del gomito troppo spigoloso fosse più curvo e avesse un capezzolo, sarebbe importantissimo, l'inventore del seno disse, il seno è fatto, facciamo il punto, e creò questa parte, e c'è il rapporto tra capezzolo e capezzale, il rapporto tra capezzolo e capezzale, quando un'infermiera con un bel seno si appoggia al capezzale di un morto, capezzolo e capezzale, sentite il richiamo della funesta, non della foresta, che io sento quando le parole arrivano, quando le parole si fanno sentire e arrivano, l'uguaglianza, siamo tutti uguali sputati agli altri uguali sputati, e a molti noi sputiamo, quindi c'è una disuguaglianza, siamo diversi, siamo lontani, troppi pregiudizi, la Bibbia in frigo fa pensare male, un motorino sul tavolo fa pensare male, un cetriolo sul comodino fa pensare male, ma perché ci sono questi pregiudizi? Questo voglio sapere, scoprire un politico in casa, scoprire un politico in casa chiama al 911, cosa devo fare, cosa ti devo dire, non si legge mai sulla stampa vive mentre fa l'amore, non si legge vive mentre fa l'amore, si dice sempre muore mentre fa l'amore, mai, non si scrive mai vivo un politico trovato, vivo un politico in Parlamento, non si legge mai, mai, la notizia non c'è, eppure abbiamo paura che certe persone muoiano, poi abbiamo paura che certe persone non muoiano mai, questo si fa paura, si chiama altro tradimento, che non significa assolutamente tradire un ideale, tradire un esercito, ma l'intelligenza, il bello, il giusto, il vero, ustica, ustica è diventata un'esclamazione, sentite questa parola, ustica, come dire, cacchio, come dire, però, come dire, ma non ci posso credere, è dell'ennesima cosa di cui noi ci stupiamo nel silenzio, esclamazione di stupore, per chi tiene trent'anni dei segreti e un giorno si sveglia e dice, vi devo dire delle cose, ma dove eri per questi trent'anni, tu, dove sei stato, le tue parole, dove sono le tue parole, e l'ecologia, importante, l'inquinimento della terra, l'inquinamento dell'aria che tira, l'inquinamento delle prove, il clima che si respira in Parlamento, nel Parlamento europeo, nelle galere, nelle RSA, nelle scuole, nelle periferie, riscaldamento globale, lo capirebbe anche una bambina e allora, grazie Greta, lo capisce anche una bambina, dai, dai che manca così, manca così, la parola respirare, respiro, l'altra parola senza la quale nessuno, respiro, covid, e virologi, riciclati, messi sulla carta, nel vetro, riciclati come ospiti che diventano poi anche presentatori, l'arte è gotica, la tv fa girare gli ospiti, l'amore fa girare il mondo, i soldi fan girare il mondo, l'amore fa girare i coglioni, insomma l'amore, c'è qualcosa che fa girare i coglioni, ci mettiamo d'accordo per favore, scrivere i libri su tutti gli argomenti è fondamentale, il respiro è necessario, i vaccini, fino a prova contraria, le ginocchia sui polmoni, cosa c'entra il polmone col respiro e con le ginocchia, chiedilo ai poliziotti che col ginocchio premono da anni, dall'America di Floyd fino all'Italia e tolgono il respiro, il respiro, l'inquinamento è anche umano, quello è l'inquinamento umano, congiungi vite, congiungi vite, ma non è la mia vita, come fai a dire che non è la tua vita, come fai a dire che non è la tua vita, facciamola sta differenza, dice ma dovremmo fare, facciamola sta differenza, il proiettile entrò nella tempia e uscì a cena, pensiamo, prese fuoco durante le cure pagliative, pensiamo, paga i suoi peccati e con il resto va a Baldrach, pensiamo, gemelli lasciati sul comodino, gli inquirenti cercano la madre sotto il letto, il padre nell'armadio, lieto fine, l'ostetica si sposa col fratello del comodino, cerchiamo, ah se i comodini potessero parlare, quello che hanno sentito, quello che hanno visto, quello che hanno dito, il verde, la ristorazione a chilometri zero, mangiamoci le unghie e chiudiamola lì, questo è il cibo a chilometri zero, solo le unghie, non c'è altro, allevamenti intensivi, sangue, stragi, il tavolo delle trattative va imbandito, il tavolo dell'obitorio, l'Italia e le sue eccellenze, Amalfi, Roma, Venezia, turisti, futuristi, negazionisti, fascisti, ponte Morandi, quello sullo stretto necessario, quando è che costruiamo un ponte sullo stretto necessario, un ponte sullo stretto indispensabile, facciamo quel ponte lì, facciamo quel ponte lì, lo stretto, lo stretto, la parola stretto, i paesi disabitati, tanti paesi disabitati in Italia, disabitato da riabitare, il povero Lucano sbagliò, ha sbagliato tanto, ma perché l'Italia non prende ciò che sa delle regole, copia quell'esempio e riempe tanti paesi che potrebbero essere vissuti e rianimati da tanti migranti, perché non lo fa? Qual è la parola che manca? Qual è la parola civile, l'edilizia civile, penale, e qual è? È Europa, non è Europa, congiungi vite, dai, il fatto del giorno, i fatti del giorno, i fatti del giorno, io voglio fare un nuovo giornale che si chiama Il Non Fatto, ti racconta tutto quello che non è stato fatto, non quello che noi vediamo alla fine, ma tutto quello che noi potremmo evitare facendolo e non abbiamo fatto, e questo è importante e questo è fondamentale, la medicina, la salute, è importantissimo, fondamentale, la salute degli altri, l'urgenza, il soccorso, il terremoto che c'è stato in Siria, in Turchia, le nazioni del mondo hanno mandato degli aiuti, meraviglioso, una grande generosità, aiuti, l'altra parola aiuti, per poter scavare quelle gru, per fare il varco e togliere persone, e li hanno aiutati, finito di fare quel lavoro, queste nazioni superpotenti si sono spostati e sono andati a fare guerra in altri posti per metterne degli altri sotto le macerie, ma non capiamo, non capiamo che è tutto collegato, che è una congiungivite continua, è impressionante, però non c'erano italiani, ci hanno detto che non c'erano italiani, per fortuna in Marocco non ci sono italiani, è come sentirsi da un oncologo nell'incidente stradale nessuno col tumore, tranquilli, i medici, la salute, il tempo, a tre mesi di vita, e chi lo dice? La parola a tre mesi di vita, le parole, dette in fin di vita, le parole a tre mesi di vita, secondo me, di secondo me, medico, di secondo me, di secondo la mia scienza, secondo il mio sapere, secondo le mie idee, e di anche un secondo cronologico, secondo me, ma prima tu, tu vieni prima di me, tu sei il malato, non la malattia, quindi spiegami, raccontami, facciamo un lavoro insieme, non dire, e ti difendi, tanti oncologi rincontrano dopo anni, persone a cui avevano dato tre mesi di vita, e c'è un grande imbarazzo, lo so, ho conosciuto queste persone, la persona è felice, dice, dottore, come sta? questo dottore lo guarda bene, ma lo guarda male, perché ha sbagliato qualcosa, però è contento, però va via con un mezzo sorriso, il mezzo sorriso di chi dice, comunque sappia che, ma non glielo dice, le malattie possono tornare fuori, ma che cos'è? Cos'è che ci fa sentire Dio, senza poter avere niente da dare come Dio? Qual è il lavoro che può fare la filosofia? Qual è il lavoro che può fare la letteratura, la poesia? Cosa possono fare le parole? Dici, devi soffrire per capire, se non soffri non puoi capire, quindi se io non ho un tumore, se io non ho un figlio morto, se io non ho una figlia violentata, non capirò mai niente, è impossibile fare questo, la congiungivite serve per quello, serve per unire, serve per creare, serve per dare vita, quella è la grande forza, andrò a Bruxelles, per la casa dei risvegli, faremo un incontro sulla disabilità, e sul tema della sostenibilità, che cos'è sostenibile, una testa, una vita, un coma, è sostenibile, e l'ultimo giorno saremo al Parlamento europeo, mi piacerebbe scappare, e cogliere l'occasione di essere un giorno al Parlamento europeo, per dire quello che penso ai parlamentari europei, e mi piacerebbe fare una piccola invasione, uscire dal seminato, poter essere completamente nato, non solo seminato, non solo, ma totalmente nato. Gli invisibili, li vedete benissimo, lo so, grazie Modena, non moderare mai i termini, grazie al Festival della Filosofia, non fermatevi qua, tornate dove non siete mai stati, grazie a tutti,